Allora, per la scuola ho preso già lo zaino, il diario, l'astuccio, quindi... Serve qualcosa in più. Cosa sto dimenticando? Ma certo, penne, temperini, quaderni... Ah, ciao, Rino! Sei proprio arrivato nel momento giusto! Mi servono ancora delle cose per la scuola, potresti aiutarmi, per favore? Una copertina! Dei quaderni, pennarelli, 36 pastelli, penne, temperini... Grazie, Rino! Avevo proprio bisogno di tutte queste cose. Allora, qui abbiamo una copertina per rivestire i quaderni. A scuola, soprattutto gli elementari, è molto 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 utile, perché una persona associa il colore alla materia. Questi mi servivano proprio. Voglio vederli meglio. Vediamo, apriamoli. Ecco qui. Pastelli e pennarelli. A scuola questi non possono mai mancare, servono sempre. Questi qui, alle medie, servono soprattutto per altre. Questi qua servono per qualsiasi cosa. Quando fate un disegno libro, un disegno indirizzato, un disegno... Guardate, ragazzi! Questi sono i pastelli all'interno della scatola. Cosa voglio testare? Testo questo qua. Rino mi ha consigliato queste tre penne coloratissime. Allora, io comincerei da questa blu. Ok. Olè! Ecco qua. Questa ha quattro colori. Rosso. Blu. Verde. E nero. Proviamo il rosso. Poi, proviamo il verde. Proviamo il blu. E proviamo il nero. Ok. Queste sono le quattro colorazioni. Quattro penne in una. E ovviamente, anche queste altre, sono uguali a quella. Tranne questa qui. Ok. Adesso vi faccio vedere subito. Guardate, guardate. Attenzione. Attenzione. È vellutata. C'è un camaleonte con delle foglie. Ed è vellutata. Ed è troppo bella. E adesso i temperini. Che non sono mai abbastanza a scuola. Allora. Vi devo raccontare una storia. Io, quando andavo all'elementare, ne ho persi tantissimi. Ne portavo tre. E ne perdevo tre. Cioè, entravo con tre. E uscivo con zero. Apriamo questo qua. Come vediamo? Questo qui è un temperino esagonale che ha tre fori diversi per temperare le matite. Allora, abbiamo questo qui che ha il foro grande, il foro piccolo e poi c'è un foro a parte. Apriamo quest'altro. Eccolo qui. Bellissimo. Non avevo mai visto un temperino così. Questo è il contenitore dove vanno tutte le matite temperate, no? E poi si apre qua per temperare il tutto. Poi, tac. E si va a buttare nel cestino. La cosa bella è che, aprendo quest'altro, si possono mettere insieme le parti. Voglio fare questa cosa, ragazzi. Allora, prendo la parte di questo temperino e la scambio con quest'altro. Così sono più originali. Ragazzi, trovate tutte queste cose sul catalogo Scuola 3 di Bennett, che è valido fino al 16 settembre. Rino? Rino, ci sei? Non c'è più Rino. Rino, sei tu? No, non è Rino. Eh, Rino? Vabbè, comunque ti ringrazio per tutte queste cose. Grazie tante. Questo è proprio tutto quello che mi serviva per iniziare la scuola. E quindi, ragazzi, io vi saluto. Rino vi saluta. Ciao, ragazzi. Andate nei negozi Bennett a prendere queste cose. Ciao!